ciao ragazzi oggi è sabato 26 stiamo seminando siamo in piena semina del mais come vi dicevo nel video precedente in cui stavo preparando appunto il terreno in minima lavorazione appunto propedeutico alla semina che sto facendo è un'annata come tutte alla fine un po particolare perché è tantissimo che non piove da dicembre che che non piove però vi devo dire una cosa importante non pensavo di trovare i terreni così umidi c'è umidità nel terreno pensavo non ce ne fosse completamente ho detto lo lavoro tranquillamente poi dopo la settimana prossima danno danno acqua e mi auguro tanto che venga sia per il mais ma soprattutto per il triticale come dicevo nell'altro video perché il triticale che vedete appunto alle mie spalle è ancora bellino però ha bisogno tremendamente di acqua e alla fine speriamo che piova io tutte le volte che apro il 3b meteo li maledico e mi viene l'ansia perché continuano a metterla toglierla toglierla metterla un giorno mettono 25 mm con lo 70 80 per cento giorno dopo 5 col 40 non gli auguro tanto quelli di 3b meteo se trovate un'app che veramente ci imbrocca perché una volta diciamo usavo sia il meteo.it che il meteo quello dell'iphone e poi ho trovato 3b meteo e devo dire che mi sembrava qualche anno fa che funzionasse meglio ultimamente non ci beccano mai ma veramente mai cioè quindi mi stanno veramente sulle balle ultimamente me lo dico in maniera simpatica ma veramente mi fanno mi fanno stare cioè in questi tre giorni avranno cambiato le previsioni credo almeno 7 8 volte ma comunque va bene diciamo che come dicono loro a più di tre giorni non c'è una grande attendibilità ma a sto punto non fatele perché se dovete cambiarle così come tirare i dadi tanto vale che non le fate ci dite guarda noi te lo diciamo a tre giorni al quarto giorno arrangiati. In ogni modo dicevo stiamo seminando in realtà c'è umidità c'è umidità perché credo che quest'anno a parte vabbè c'è stata una le ho messo sotto una quantità industriale di digestato che hai sicuramente aiutato e quindi questo probabilmente mi ha salvato di più rispetto ad altri e anche la pestata che gli ho dato con le botti che di solito è un grosso problema paradossalmente forse quest'anno è stata d'aiuto perché perché devo dire appunto che un po' di umidità nel terreno c'è chiaro è che se dovesse così come se dovesse piovere per 40 giorni di fila poi un problema altrettanto lo è se adesso nei prossimi 40 giorni non viene giù una goccia cioè questo è naturale siamo sempre lì c'è da decidere quando di quando entrare a seminare c'è da decidere a che profondità seminare ho iniziato a metterla a 5 centimetri poi adesso l'ho messa un po' più sotto tenete presente che sai tutti i detti li conosco bene no il seme del mais deve sentire le campane e tutte queste cose qua che sono anche in un certo senso hanno un fondamento agronomico però poi devi sempre vedere come viene il lavoro e non sottovalutare il fatto che un'erpicatura fatto con un erpice rotante ti mette il terreno in un modo diverso rispetto a un erpicatura fatto con un erpice da minima lavorazione cioè ha una serie di vantaggi notevoli tra cui anche il fatto che se poi piove ti drena di più e ti aiuta però non puoi seminare a due dita perché non è perfettamente pari in tutto il campo la lavorazione della minima lavorazione specialmente nei miei campi dove questo campo qui che si chiama i movimenti che c'è in questo momento alle mie spalle dove c'è dentro la seminatrice adesso se la vedete non so dove si si dovrebbe vedere è un campo come tutti gli altri la parte in alto è sassosa la parte in basso era molto più umida è più terrosa dove colla tra l'altro il campo e insomma ogni campo ha il suo perché bisogna conoscerlo e in fin dei conti si trova sempre un giusto compromesso per esempio in questo caso nella profondità di semina per raggiungere poi il risultato per quanto riguarda il diciamo la varietà che vado che sto seminando in questo momento di primo raccolto ho cambiato rispetto all'anno scorso con con mio rammarico perché io sono sempre stato un grandissimo fan del 68k della massid e lo sono ancora avrei seminato 68k tutta la vita ovviamente se avessi potuto ma quest'anno ho seminato un altro comunque grande ibrido che ho già seminato in passato che è il 78t che è un classe 700 e non un classe 600 lungo come 68k è una pianta un po diversa perché comunque la pannocchia le pannocchie sono molto simili anche la conformazione della cariosside così ed è un genere di di prodotto che mi piace molto perché poi io faccio comunque il pastone per i maiali per cui lo butto in farina è molto importante avere un certo tipo di endocarpo un certo tipo di 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 chicco di cariosside fatti in un certo modo ma diciamo che ha una pianta completamente diversa perché una pianta molto più grande è quasi un duplice attitudine è quasi un mais che puoi fare granella e puoi fare anche trinciato è veramente un piantone ve lo farò vedere poi quando sarà quando sarà cresciuto è veramente un piantone mentre 68k è più diciamo è fatto più come i mais da granella puri quindi un po più piccolo a uno stay green un po inferiore perché alla fine appunto deve degradare per fare granella secca è una pianta leggermente diversa è una pianta che secondo me è in termini di produzione superiore leggermente superiore o comunque è anche paragonabile al 78 t ma te lo fa con una con qualche giorno in meno il che non è indifferente sia dai termini dal punto di vista dell'irrigazione perché secondo me anzi senza secondo me perché ce l'ho già avuto giù risparmio un irrigazione da me da noi considerate che se ne fanno tante irrigazione e scorrimento se ne fanno l'anno scorso l'anno scorso un disastro ne ho fatte 8 ma normalmente comunque se ne fanno 5 6 e secondo me se ne risparmia tranquillamente almeno una con il 68k rispetto al 78 t inoltre diciamo che quando ti sta in campo un po meno c'è anche un vantaggio di diciamo relegato al maltempo perché comunque una settimana dieci giorni in più può essersi che ce ne viene una grandinata il vento cioè bisogna anche pensare a queste cose qua e allora la domanda è perché hai messo il 78k non hai messo il 78 t e non il 68k sei diventato scemo no non ancora non del tutto quantomeno l'ho fatto perché cosa succede sui miei terreni che sono terreni molto leggeri e dove il mais corre velocemente dove seminiamo presto e il mais praticamente a metà agosto per non dire al 10 alcune volte viene pronto io mi trovo in difficoltà a pareggiare la mia produzione con quella di che compro e come è successo l'anno scorso mi tocca aprire chiudere la trincea tre volte e la cosa mi stufa un po capisco per il secondo raccolto perché vabbè lì è del tutto evidente che quello seminato da praticale non potrò mai pareggiarlo con quello ma gengo di nessun tipo di nessuna latitudine neanche se vai a prenderlo a copenaghen però almeno sul ma gengo vorrei evitare di dover aprire chiudere aprire chiudere e di conseguenza visto che qua intorno i miei clienti e i miei vicini amano tutti i seminari dei classe 700 e magari mi sposto anche di 10 chilometri e magari lì c'è un terreno un po più forte per cui già tendenzialmente viene un po dopo rispetto al mio alla fine ho deciso di mettere anch'io un 700 e tra i 700 ho scelto il 78 t perché lo conoscevo già ed è veramente un ottimo produttore una grande pianta mi sono sempre trovato ho fatto dei record con questo mais per cui probabilmente la produzione più alta di tutti gli annati da quando sono qua l'ho fatta col 108 con 78 t qui sicuramente un mais produttivo e alla fine questa è anche un po la motivazione anzi l'unica motivazione per cui ho cambiato poi ho preso del 59 k che avevo provato l'anno scorso da seminare dopo triticale ma poi ne parleremo quando seminerò dopo triticale perché l'anno due anni fa avevo fatto il 68 k che comunque va bene il 59 k che è un 500 lungo è andato addirittura meglio anche per gli stocchi perché ha uno stocco che resta più verde e qualora volessi fare il trinciato di stocchi come ho fatto l'anno scorso e probabilmente lo farò anche visto i prezzi delle materie prime quest'anno mi fa gioco quindi questa è un po tutta la panoramica del perché e per come sto facendo queste lavorazioni in questo momento che cosa sto facendo e che cosa sto seminando mi piacerebbe sapere la stessa cosa vostra ecco che cosa state seminando o che cosa avete intenzione di seminare quando avete intenzione di seminare ma anche un po proprio diciamo i mais che preferite i mais con cui vi siete sempre trovati bene so che sai mai sono un po come come i trattori no c'è chi è il john dirista c'è chi è fendista eccetera eccetera no e il new hollandista e il mais uguale c'è chi è targato pioneer c'è chi è targato decalb eccetera 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 kvs massid e così io come potete vedere sono ormai più di dieci anni che semino massid e mi sono sempre trovato in maniera eccezionale tra l'altro le prove hanno confermato quello che io vado dicendo da anni cioè che la massid ha degli ibridi straordinari però come come vi ho sempre detto e come confermo anche stavolta le tecniche agronomiche battono 10 a 0 la scelta dell'ibrido nel senso che se poi tu puoi prendere l'ibrido che l'ibrido che vuoi ma poi se alla fine non semini al momento giusto o non fai la lavorazione giusta alla fine non c'è ibrido che tenga la differenza tra un ibrido e l'altro è importante ma è meno importante di quanto non lo siano le tecniche agronomiche corrette da fare nel campo è come dire o scelgo la marca di sci o la marca della racchetta di te da tennis che preferisco sì ma alla fine se sei un cacciavite la palla non la metti dentro neanche se prendi la racchetta di federer cioè di conseguenza un po il discorso è un po quello non proprio a quel livello lì ma poco ci manca per cui fatemi sapere cosa seminate fatemi sapere quando lo seminate se vi va mettete il like al video ma soprattutto iscrivetevi al canale youtube mettendo la campanella così quando faccio i video se li volete vedere se vi fa piacere vederli lì potete siete avvisate li potete vedere per il resto vi auguro un buon lavoro e vi saluto ciao ragazzi